Tocco dietro Mario Rui, Politano taglia, visto! Palla larga, Politano, occasione Napoli, ripartenza! Ne vedremo tante quest'anno, al limite, conclusione forte! Rambotta il Foloruscio, ce l'ha al tiro da fuori, ce l'ha in generale Ione, va invece veloce come al solito Zanoli, corsa, palla dietro, Simeone, stop, Simeone, Simeone! Alfonso, gran parata, calcio d'angolo, non avanti, va indietro, Elmas, anche Foloruscio nera di rigore, visto la palla è lunga dall'altra parte per Politano, acrobatico! Ma non preciso, secondo tiro verso la porta, Raspadori, bello, il controllo e il tiro! Alto, sempre grande, infatti, in pallo Simeone, la palla è su, Simeone in aria, Simeone dietro, secondo palo, Kvaraschelia! Traversa! Fa paura Simeone agli avversari, non riescono ad allontanare, indra la sua pressione, e va a caccia del pallone, lo ritrova, poi scelta giusta, palla dietro per Kvaraschelia, Traversa, occasione più grande, ora Dickman, corre veloce, superato Dickman, movimento di Osimeone, forse in fuorigioco, centra il Raspadori, stop e tiro! Largo! Diverte il Napoli, stop e tiro, tocco per Osimeone, in bilico, Osimeone! Conclusione in porta, è vincente! La spalla in vantaggio, sorpreso Meret, 1-0! Puletto, guardate qui, 2004 è il numero 10 della primavera della spalla, si è un gol fantastico, Filippo Puletto, olè! Stop, secondo palo Osimeone, scelto, Osimeone! Tocco e tiro, Raspadori, deviazione, Bright, Raspadori un'altra volta, Galeotti in calcio d'angolo! Scelta del compagno, è Osimeone, adesso a segnare, fa passare il pallone, Anghissa arriva, pareggio del Napoli, bella giocata a sinistra, Zienlischi crea, Anghissa, finalità! Cambio, Kvara Schelia, in area, ma sul sinistro, Kvara conclude, alto! Rabi porta il pallone, Rabi si allarga, cross, deviazione, calcio d'angolo, spalla, Botka! La palla passa da Raspadori, conclusione, parata, bravo Meneghetti, Kvara Schelia, dietro per Olivera! Buona idea, Garcia, palla centrale, Saiani stop, conclusione Meret, calcio d'angolo, non ha...